Ma no! No! Teresa! No! E ora ti ha prenduto tutti i soldi da casa perché se noi anche stai scendendo a te vedi la nazione avete capito che è scendendo? Fuori al papà! Scornacchiate! Ti spara proprio in capa ti spara! No! Non ho sparato no! Io sono povero Dio! Ma guarda Pena tu! Io devi tenere tre figli pure! Ti spara! Capite che ti spara! No! Non ho sparato ma giuro guarda Io sono povero Maronna! Tengo tre figli e una moglie! Io non sto ospitando un figlio ma non ho sparato! E allora questo? Non ho sparato! Non ho sparato! Sì ma questo ma questo! Non ho sparato! 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 E chi sono questi documenti? Oh! Sono i miei ma se ne hanno chiamato prima! E pigliela! Pigliela a te! Ha già pigliato? Pigli i documenti! Non ho sparato! Ha già sparato non ti preoccupare! Teresa! Vieni vicino a mamma! Teresa! Vieni vicino a mamma! Vieni subito se sei una brava persona o no! Guardate un po' guardate l'ironia della salute! Vedete capite che questo come si chiama? C'è nato a Belvedere! Nato a bella vista! Quando va a nascere? O 3 dicembre! O i giorni di Santa Lucia! Il padre è italiano! E mamma cieca! E mamma è cieca! Mamma è cieca! Sì! Mamma è nata con i slovacchi! E mamma! E mamma è una cosa! E mamma è una cosa voglio! Ma perché potremmi si affa... Se ti metto a farsi cose in rapina! Se potevi accedere un uomo con una pistola! Con una pistola del genere! Tu! Se potevi accedere il mocio! E la pistola è giocata! Perché il lavoro è un buono vagliore! E famma capisce! E hai fatto morire la paura! Ma perché hai fatto questa? Perché? 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 Perché la moglie ha trafiggio! La fatica non si è fatta proprio! E cosa c'è? Io sono di orna che non mangiano! E le creature! Che la fa? E le fa solo con la rapina! E le creature non mangiano la riva! Di orna che non mangiano!